Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguire... Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Lori Wasserman nasce a Chicago, nell'Illinois, il 18 ottobre 1957. Il suo è un esempio lampante di come la salute mentale debba essere considerata seriamente. Ci fa riflettere sul fatto che alle persone con documentati problemi mentali devono essere imposti alcuni divieti, ad esempio quello di acquistare una pistola. Divieti che, come vedremo ricostruendo questo caso, avrebbero potuto salvare delle vieti Nei primi anni di vita, Lori cresce in un quartiere a sud della grande metropoli famosa per i suoi ponti e per il blues, appunto, Chicago. I genitori di Lori si chiamano Edith e Norman, il quale lavora come contabile. A cinque anni dalla sua nascita avviene al mondo un fratellino, Mark. Le scuole elementari che frequenta Lori si trovano a soli quattro isolati da casa sua, mentre le scuole medie sono ancora più vicine, distano soltanto tre isolati. Dunque per Lori raggiungere la scuola è comodo, ma vivere la vita scolastica non è altrettanto facile, per una ragazzina timida e riservata come lei che ha ben pochi amici. Inoltre Lori non diventa certo famosa per i suoi voti, nonostante se la cavi particolarmente bene in ortografia. Nel 1973, quando Lori frequenta la seconda superiore, i suoi genitori decidono di trasferirsi nel nuovo quartiere di Glencoe, un ricco soborgo a nord di Chicago, dove hanno comprato una casa dotata di cinque camere da letto. Lori dunque è costretta a cambiare scuola e comincia a frequentare la New Trier High School di Winnetka. Neanche in questo istituto riesce a stringere tante amicizie con le compagne di classe, ma in compenso il nome di Lori è alquanto popolare tra i ragazzi della scuola, che l'ammirano molto. In occasione del ballo di fine anno che si tiene a Evanston, all'Harrington Hotel, Lori partecipa accompagnata da un compagno di scuola che frequenta da circa un mese. I due sono soliti andare in giro con la sua automobile decappottabile, ascoltano la radio o le musicassette dei Beach Boys. Il ragazzo nel raccontare il suo rapporto con Lori sottolineerà di non essere mai entrato in contatto con un qualsiasi amico di lei, sembrava infatti che non ne avesse nessuno. In questo periodo Lori lavora nel negozio Kmart della zona. Lui spesso va a trovarla e riesce pure a giovare di sconti importanti sulla merce in vendita. Ogni tanto Lori gli regala addirittura degli articoli. Arriviamo al 1975, quando Lori si diploma con una buona media di voti e riesce ad accedere alla Duke University, a Des Moines, nell'Iowa. Vuole ottenere una specializzazione in educazione, con l'obiettivo di diventare un insegnante. In effetti i risultati che consegue sono buoni, ma poi cambia idea e decide di frequentare l'università dell'Arizona dove intraprende una specializzazione in arti liberali. In quest'ambito riesce anche ad accedere a una confraternita, ma le sue consorelle notano che Lori non è molto concentrata sullo studio e sugli esami. In realtà le interessano soltanto i ragazzi del campus. Spesso Lori chiede appuntamenti a più di un ragazzo, tutti previsti per la stessa serata. Poi sceglie con chi uscire direttamente nel giorno dell'incontro. Le sue consorelle descrivono Lori come una persona che si lamenta spesso, è poco socievole, uscire con lei non è divertente insomma. Durante l'estate del 1977 Lori, che non si è mai laureata in Arizona, inizia a frequentare un nuovo ateneo, situato a Madison, l'Università del Wisconsin. Segue un corso di economia domestica e uno di tiro al bersaglio. Quando a settembre si iscrive di nuovo all'Università dell'Arizona, Lori decide di cambiare la sua specializzazione in economia domestica. Inoltre continua a prendere lezioni di tiro al bersaglio fuori dal campus e proprio in questo periodo comincia a frequentare uno studente di medicina. La storia all'inizio va bene finché Lori non diventa possessiva nei confronti del partner. Infatti nel 1980 la relazione va a rotoli. La coppia si lascia dopo due anni, proprio quando lui sta per laurearsi. Così durante quell'estate Lori decide di tornare a vivere con i suoi genitori per un po'. Cambia di nuovo università, questa volta si iscrive alla Northwestern University, riprendendo il percorso verso la laurea. Tuttavia alla fine Lori abbandona anche questa facoltà e non si laureerà mai, né in Arizona, né in Iowa, né nell'Illinois, né nel Wisconsin. Successivamente Lori lavora come impiegata e come cameriera, certo si dà da fare, ma questi mestieri hanno breve durata. Inoltre la ragazza mente dicendo di essersi laureata in Arizona. In questa fase della sua vita Lori incontra un uomo di nome Russell Dunn in un bar. Russell è cresciuto ad Highland Park e lavora nell'azienda di famiglia come broker assicurativo. È un tipo estroverso e ha molti amici, ama giocare a tennis ed è anche un appassionato sciatore. I due iniziano a trascorrere molto tempo insieme, finché non si fidanzano nove mesi dopo. Lori continua a essere iscritta a diversi corsi della Northwestern University, ma la verità è che non li frequenta più. Le serve un lavoro solido e duraturo. Così Russell decide di assumerla come receptionist nell'azienda di famiglia, la Dan Brothers. Nei primi tempi sembra che Lori faccia bene il suo lavoro, ma presto si annoia e annuncia di volere un impiego più stimolante. Così si licenzia dopo pochi mesi. Lori e Russell si sposano l'11 settembre del 1982 ed hanno una piccola festa. Se Russell contava tanti amici da invitare al matrimonio, Lori invece non ne aveva. I genitori della sposa regalano alla coppia 15.000 dollari e Lori ritiene di non aver più bisogno di lavorare. Russell è ormai suo marito, un uomo estremamente ricco che percepisce un ottimo stipendio. I problemi tuttavia travolgono la coppia perché le stranezze di Lori si fanno più evidenti. Russell aveva notato delle insolite manie anche all'inizio della loro frequentazione. Quando i due erano in macchina, a ogni semaforo, Lori apriva la portiera col solo fine di appoggiare più volte un piede sulla strada. Durante la convivenza scopre poi che la donna si rifiuta di chiudere qualsiasi armadietto della cucina, una volta aperto. Infine, ogni volta che cammina sulla moquette, Lori lo fa in punta di piedi. Sebbene questi siano comportamenti insoliti, all'inizio non avevano messo Russell in allarme, ma col progredire della relazione le cose peggiorano. Russell è certo che Lori ha dei problemi mentali più seri, in quanto esibisce segni legati al disturbo ossessivo compulsivo. Arriva addirittura a rifiutarsi di gettare la spazzatura, preferendo lasciare i sacchi in giro per casa, mentre la sua automobile è spesso piena di immondizia. Inoltre Lori si rifiuta anche di indossare i vestiti nuovi che suo padre, proprietario di un negozio di abbigliamento, le regala di frequente. Piuttosto Lori ammucchia e accumula i capi sul pavimento per poi mettere sempre abiti vecchi e usurati. Come detto, Russell ha un lavoro impegnativo e sta fuori casa tutto il giorno. Tuttavia, quando rientra, trova sua moglie ancora sdraiata a letto. Lori ormai non ha interessi che la stimolino, non lavora e non frequenta alcun corso. La sua famiglia sostiene che sia indifesa, che dipenda totalmente da suo marito. Lori inoltre soffre la competizione con la suocera, una bellissima donna e commerciante di successo, estremamente vicina a Russell. Quando Lori inizia a essere seguita da uno psichiatra, scopre che la radice dei suoi problemi risiede nella sua infanzia e nella sua educazione. La terapia va avanti per un po' e Russell è convinto che Lori stia risolvendo i suoi problemi. È disposto a pagare tutti i soldi a sua disposizione pur di aiutarla a stare meglio. Tuttavia, arrivati a marzo del 1984, Lori decide di non voler più andare dallo psichiatra e smette di presentarsi alle sedute. Fino a quando, il 12 marzo, lo psichiatra le invia una lettera in cui la prega di continuare la psicoterapia. È vero che Lori assume delle medicine per stare meglio, ma non sono sufficienti. Infatti, nella lettera lo psichiatra scrive «L'uso di farmaci può portare soltanto a un miglioramento sintomatico e non a una cura definitiva per il tipo di difficoltà che stai vivendo. Inoltre, i farmaci possono essere somministrati in modo appropriato soltanto sotto l'osservazione e la cura continua del medico». Nel 1985 c'è una novità. Russell e Lori si trasferiscono in una casa di Hydeland Park, dotata di cinque camere da letto. Nonostante cerchino di recuperare la loro relazione a ottobre dello stesso anno, si separano. Concordano che avrebbero divorziato nel gennaio del 1986, ma il giorno prima dell'adempimento previsto, Lori fa un passo indietro e chiede lo scioglimento del matrimonio. Comunica al suo avvocato che vuole trascinare la procedura di divorzio per circa due o tre anni, poi riferisce a chi la conosce che vuole continuare a essere sposata con Russell. Lui è l'unico uomo che desidera accanto a sé. Al marito dice chiaramente «Se non posso avverti io, nessun'altra può». Durante un'udienza nel giugno 1986, Lori fa una dichiarazione sconcertante. Insiste sul fatto che suo marito aveva abusato di lei. Afferma che Russell l'aveva aggredita fisicamente mentre erano insieme e anche quando erano già separati. Tuttavia, siccome non ha alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni, le sue accuse cadono nel vuoto. Ma torniamo indietro di circa un mese, perché il 10 maggio 1986 Lori decide di acquistare una pistola Smith & Wesson. È convinta che Russell sia entrato nella casa dei suoi genitori e abbia vandalizzato la proprietà. Dunque, dice al venditore che ha bisogno di quell'arma per autodifesa. Un amico di famiglia però confida a Russell che Lori ora possiede una pistola, perché teme che lei possa usarla proprio contro il marito. L'uomo dunque contatta la polizia per comunicare la situazione. Gli agenti di Glenco reagiscono preoccupati e cercano di convincere Lori e la sua famiglia a consegnare l'arma, ma la donna si rifiuta. Lori però ricomincia a recarsi da uno psichiatra periodicamente, anche se la necessità di un supporto psicologico non lede il suo diritto di possedere un'arma. Quello stesso mese, mentre passeggia lungo la spiaggia di Glencoe, Lori incontra il 34enne John Childs. I due iniziano a parlare e Lori viene a sapere che il giovane abita proprio lì vicino. Lori e John dunque iniziano a frequentarsi, sebbene la loro relazione sia fugace. Anche John nota che Lori si comporta in modo strano, si rifiuta di essere toccata e spesso gli dice che ha paura di suo marito. Lori a questo punto si rifiuta di toccare le porte o di usare le posate se prima non si copre le mani con le maniche della maglietta, nonostante come John nota lei si lavi le mani un gran numero di volte durante il giorno. Arriviamo al 30 settembre 1986 quando Russell viene pugnalato con un rompighiaccio mentre dorme nel suo appartamento. L'aggressione gli è quasi fatale in quanto il rompighiaccio non raggiunge il cuore per un centimetro. Russell non vede la faccia di chi ha provato a ucciderlo, ma ne è certo. Dietro quell'attacco c'è Lori. La polizia, a prescindere dalle convenzioni di Russell, non è sicura che sia stata ea ad aggredirlo. Addirittura studiando il referto medico conclude che le ferite potrebbero essere autoinflitte. E Russell a questo punto non collabora con la polizia, inoltre fallisce il test del poligrafo mentre Lori lo supera. Nonostante ciò un impiegato di un negozio di ferramenta è in grado di identificare Lori come la donna che era entrata nella bottega proprio per comprare un rompighiaccio. Tutto questo era avvenuto poco prima dell'aggressione ai danni di Russell. La polizia inoltre trova una ricevuta nella residenza di Lori in cui risulta che in effetti aveva acquistato l'arma prima dell'attacco subito da Russell. Tuttavia gli inquirenti non accusano la donna per l'aggressione con rompighiaccio poiché non ci sono prove sufficienti per sostenere che sia lei la colpevole. Durante i mesi successivi la polizia viene chiamata più volte per diversi motivi tra cui una quantità consistente di telefonate moleste fatte a Russell e ai suoi familiari. Uno degli amici di Russell contatta la polizia per le numerose chiamate ricevute tutte ricondotte alla casa dei genitori di Lori a Glencoe. Anche qualcun altro è vittima delle telefonate minacciose di Lori il suo ex fidanzato dei tempi dell'università il medico di Tucson. Sebbene Lori non sia stata incolpata dell'aggressione con rompighiaccio successivamente nel novembre 1986 viene accusata per aver effettuato numerose chiamate moleste alla sorella di Russell. Ciononostante queste accuse vengono poi ritirate dai pubblici ministeri della contea di Lake sempre per mancanza di prove. Arriviamo al gennaio del 1987 quando la procedura di divorzio continua a essere in corso. Secondo i documenti del tribunale Lori e Russell concordano di vendere la loro casa e di dividere i 250 mila dollari che ne avrebbero ricavato. Inoltre per i primi 36 mesi Russell avrebbe pagato a Lori un importo mensile di 1250 dollari. Per un po' queste telefonate moleste si diradano ma a marzo Lori torna a tartassare non soltanto Russell ma anche i suoi amici. Infatti questi comunicano alla polizia di ricevere anche due o tre chiamate a notte. Il divorzio tra Lori e Russell viene finalizzato nell'aprile del 1987. Russell alla fine dell'incontro tenta di stringere la mano a Lori amichevolmente ma lei si scosta allarmata. La coppia non è più sposata a questo punto eppure le tensioni tra Russell e Lori sono tutt'altro che finite. Subito dopo il divorzio Lori accusa di nuovo Russell di averle fatto violenza intima. La polizia però di nuovo non riesce a trovare alcuna prova a sostegno delle sue dichiarazioni. Lori affronta due test del poligrafo e li supera entrambi. Allora la polizia preleva un campione di capelli di Russell per eseguire dei test però non viene mai sporta denuncia contro di lui. Arriviamo al maggio 1987 quando Lori accusa il suo ex marito di aver posizionato un ordigno incendiario all'interno di casa sua. Più precisamente afferma che le ha lasciato una molotov sul tavolo della cucina. La polizia interroga Russell sulla questione ma sceglie di nuovo di non sporgere denuncia contro di lui perché le prove per sostenere l'accusa di nuovo non ci sono. I genitori di Lori invece sono convinti che la figlia sia del tutto sincera riguardo alle accuse mosse contro Russell e la difendono a spada tratta. Lori come vi ho già accennato intanto aveva cominciato una terapia da uno psichiatra per curare il disturbo ossessivo compulsivo. Lo psichiatra riferisce alla polizia che non crede che Lori abbia tendenze omicide o suicide è convinto che non rappresenti una minaccia né per se stessa né per il prossimo. Frattanto durante il 1987 Lori lavora come babysitter presso varie famiglie che vivono in quartieri ricchi come Highland Park e Glencoe. Alcuni dei genitori che le hanno affidato i propri figli pensano che Lori abbia eccellenti capacità di accudimento. Insomma sono contenti del servizio che offre. Ricorderanno infatti che era bravissima con i bambini e che i piccoli adoravano passare del tempo con lei. Tuttavia ci sono altri genitori che si lamentano con la polizia perché alcuni mobili delle loro case sono stati danneggiati oppure denunciano il furto di cibo e vestiti. E il padre di Lori che fa? paga 400 dollari di danni a una delle famiglie in questione che ha accusato Lori di aver rubato cibo o altri oggetti dalla loro casa. Anche in questo caso però nessuna accusa viene mossa contro Lori. Lori in realtà è a disagio con i genitori dei bambini e si mostra riservata. Ma che lei adora i bimbi è vero aveva sempre desiderato essere madre. Prendersi cura dei più piccoli, giocarci e leggere loro delle favole. Lori dunque fa la babysitter, percepisce ancora del denaro dal suo ex marito e ha una famiglia piuttosto ricca alle spalle. Tuttavia trascura il suo aspetto esteriore che non corrisponde al suo status sociale. Fa fatica davvero tanto a prendersi cura di sé, a lavarsi i capelli regolarmente e la sua automobile continua a essere davvero tanto in disordine. La madre di Lori descrive l'odore del suo corpo come quello di uno scaricatore di porto. Inoltre quando Lori prepara i pasti, rimette nella credenza le posate, le pentole e i piatti senza prima lavarli. Uno dei suoi primi clienti, Kenneth Beckman, vuole farle pubblicità negativa pubblicando su un giornale un annuncio per mettere in guardia le altre famiglie della zona affinché non assumessero Lori come babysitter. Il figlio di Kenneth infatti aveva visto Lori rubare delle bistecche surgelate e vari oggetti dalla loro cucina. La polizia però aveva parlato con Kenneth e l'aveva convinto a non diffondere quell'annuncio denigrante sul giornale. Nell'estate del 1987 Lori decide di subaffittare un appartamento di uno studente universitario a Evanston, nell'Illinois, chiariamo. Lori non sta frequentando nessun corso all'università, ma va in giro per il campus a chiedere quali confraternite siano più attive per il solo scopo di provare a uscire con degli studenti. Sottolineo che in questo periodo Lori ha 30 anni, in media ha fino a 12 anni in più delle persone ospitate nei dormitori. Anche lì la gente inizia a notarla in realtà perché ha dei comportamenti strani, ad esempio Lori occupa gli ascensori per ore e va su e giù da un piano all'altro senza una motivazione logica. Dopo un po' ecco che si verificano dei furti nel campus ed è probabile che sia lei la colpevole. Lori inoltre attualmente si rifiuta di toccare qualsiasi superficie metallica, se è costretta a farlo deve prima indossare dei guanti di gomma, necessariamente. Presto Lori decide di tornare a lavorare come babysitter, così riempie le baccheche con dei manifesti fatti a mano da lei che illustrano i suoi servizi di assistenza all'infanzia. Trova dunque dei nuovi clienti. Nel frattempo Russell assume un investigatore privato per tenerla d'occhio, perché teme davvero che la donna sia pericolosa e possa fargli del male. È terrorizzato dalle chiamate moleste ricevute per mesi e soprattutto dal suo comportamento spesso inquietante. È proprio a causa delle sue stranezze che l'università vuole far sfrattare Lori dall'apportamento preso in subaffitto. Ma tanto per cambiare suo padre Norman va all'università e risolve la situazione per conto della figlia. Lori alla fine lascia l'appartamento il 7 settembre. Quando i funzionari del college accedono negli ambienti occupati da Lori scoprono che aveva lasciato della carne andata a male, ormai in marcia, sul bancone della cucina, ma soprattutto che i pavimenti sono inzuppati di urina. Intanto l'investigatore assunto da Russell, che cerca di scoprire dove sia andata Lori dopo aver sgomberato l'appartamento, appura che sta dormendo nella sua macchina a circa cinque isolati dal campus. Lori fa ancora la babysitter per alcune famiglie a Glencoe fino ad ottobre. Il direttore della pubblica sicurezza di Glencoe, Robert Bonneville, ha contattato il padre di Lori per informarlo che ci sono state diverse denunce contro sua figlia. Norman ripaga di nuovo altre due famiglie che sostengono di aver subito dei furti da Lori e raggiunge un accordo con il direttore della pubblica sicurezza. Lori può continuare a fare da babysitter presso le famiglie che sono ancora interessate ai suoi servizi, ma non le è più permesso di lavorare con nuovi clienti in questo ruolo. Nell'autunno del 1987 Lori si reca dalla polizia, è sconvolta, sostiene di aver ricevuto delle lettere minacciose dal suo ex marito Russell e afferma che lui l'ha aggredita intimamente in un parcheggio. La polizia a questo punto pensa che Lori stia mentendo. Passano poche settimane quando la donna compra un'altra pistola. I residenti di Glencoe a questo punto sono davvero preoccupati per il comportamento di Lori. Ben quattro papà della comunità che avevano assunto Lori come babysitter decidono di incontrare Robert Bonneville, ossia il direttore della sicurezza pubblica della zona. Chiedono a gran voce che la polizia istituisca una task force proprio per indagare su Lori. Floyd Moore, un detective di Glencoe, viene incaricato di indagare su di lei. Copre così che Lori sta vedendo uno psichiatra e va a parlare con alcune persone che avevano ricevuto le sue telefonate moleste. Lei informa che lo psichiatra ha stabilito che Lori non rappresenta una minaccia né per se stessa né per gli altri e la questione si chiude. A novembre Lori va via da Glencoe per stabilirsi a Madison, nel Wisconsin. Si trasferisce in un edificio destinato a ospitare gli studenti fuori dal campus, chiamato Le Torri. Lori mente ai ragazzi che incontra dicendo loro di essere una studentessa di giornalismo del secondo anno, trasferita da un'altra università. In questo periodo Lori, sempre in cura da uno psichiatra, inizia a lamentarsi della clomipramina, un farmaco antidepressivo che si assume per il disturbo ossessivo compulsivo. Lo psichiatra allora decide di aumentarle il dosaggio, poi le prescrive un altro farmaco, il carbonato di litio, che avrebbe dovuto aiutarla con i suoi sbalzi d'umore. Si tratta di un medicinale usato per trattare la depressione maniacale. Nel dicembre 1987 Lori acquista un'altra pistola. Continua a comportarsi in modo strano e dunque non passa inosservata. Persiste nell'occupare gli ascensori andando su e giù e alcuni degli studenti infatti la soprannominano la psicopatica dell'ascensore. Lori si guadagna rapidamente la reputazione di eccentrica solitaria. Ha inoltre un'ossessione per i numeri, alcuni li considera buoni e altri cattivi, tanto che cambia ripetutamente i canali televisivi nel salone dell'edificio. Il suo aspetto è sempre trasandato, indossa soltanto tute da ginnastica e non cura l'igiene personale. A causa di questi comportamenti, delle accuse di furto e dei suoi continui viaggi in ascensore, la coinquilina di Lori decide di lasciare la stanza condivisa. Dopodiché nessun altro studente si fa avanti per occupare la stanza. Le persone sono troppo a disagio vicino a Lori. In primavera una delle famiglie di Glencoe, per cui lavora, accusa Lori di aver rubato del cibo in casa di nuovo. Poco dopo la famiglia in questione riceve un'inquietante minaccia di morte telefonica da parte di una donna che afferma i vostri figli moriranno. Nel marzo del 1988 Lori smette di andare sia dal suo psichiatra che dal suo terapista comportamentale. Sta architettando un piano diabolico. Entrare in una scuola elementare per fare fuoco su tutti i ragazzini presenti. Inoltre comincia a rubare dei libri sui veleni dalla biblioteca. Il 12 marzo Lori viene visto accedere a un laboratorio presso l'edificio dell'ospedale e delle cliniche dell'università del Wisconsin. Tre giorni dopo qualcuno al laboratorio riferisce che dall'edificio sono stati rubati arsenico e piombo. Lori inizia anche a rubare vestiti e parrucche da vari negozi per cercare di travestirsi. Il 14 marzo viene arrestata per taccheggio in quanto aveva provato a rubare quattro parrucche e due fermagli per capelli. Quando viene arrestata fornisce alla polizia il precedente indirizzo di Highland Park dove aveva vissuto col suo ex marito. Spiega anche che è una studentessa dell'università dell'Arizona. A questo punto si è lo psichiatra che è il padre di Lori cercano di convincerla ad andare in ospedale per essere ricoverata e curata ma lei si rifiuta. Intanto durante tutto questo tempo la donna ha continuato a fare chiamate minacciose al suo ex marito e anche ad alcuni ex clienti presso cui aveva lavorato come babysitter. Inizialmente le sue chiamate erano mute quindi quando la gente le rispondeva si limitava a stare in silenzio ma quel tempo ha iniziato a rivolgere delle vere e proprie minacce di morte. Come detto prima chiama anche il suo ex ragazzo ormai diventato medico a Tucson minacciandolo di accoltellare lui e i suoi figli. Nel maggio 1988 Lori invia una lettera all'amministrazione dell'ospedale dove lavora il suo ex ragazzo in cui afferma di essere stata aggredita intimamente proprio da lui. L'FBI viene finalmente coinvolta e presenta un atto d'accusa federale contro Lori. Intanto nello stesso mese un custode che lavora alle torri fa una scoperta sorprendente quanto angosciante. In un ripostiglio del quinto piano trova Lori all'interno di un sacco della spazzatura in posizione fetale. Viene dunque chiamata la polizia che interroga Lori ed entra nella sua stanza al dormitorio. La camera versa in condizioni disgustose ma lei riesce a convincere gli agenti che sia tutto a posto non ha bisogno di cure mediche. Quando perquisisce la stanza la polizia non trova nessuna delle pistole comprate da Lori e stabilisce che non ha bisogno di essere posta in custodia protettiva. Dopo questo strano episodio Lori lascia le torri nel cuore della notte del 16 maggio per tornare a Glencoe. In questo periodo la donna concretizza alcuni dei suoi piani malevoli. Compra numerose scatole di succhi di frutta e snack croccanti per iniettarvi del veleno all'interno. Usa l'arsenico rubato dal laboratorio di Madison. Dopodiché li invia a vari destinatari, il suo psichiatra, il suo ex marito, un ex amico e alcuni vecchi clienti che l'avevano assunta come babysitter. Ad alcuni di questi Lori consegna personalmente le merendine manomesse. Una parte delle famiglie contro cui si accanisce addirittura non le vedeva da anni, infatti i bambini che accudiva sono cresciuti. G-snack avvelenati vengono consegnati anche a varie confraternite della Northwestern University di Evanson. È chiaro che Lori intende causare danni a parecchi soggetti ma per fortuna molte delle vittime designate non mangiano gli snack né bevano le bevande da lei inviate. Quelle che provano ad addentrare le merendine si rendono subito conto che hanno un sapore davvero terribile. L'arsenico inoltre era stato diluito considerevolmente quindi nessuno riporta conseguenze gravi o peggio muore per avvelenamento. La mattina del 20 maggio Lori si presenta a casa dei coniugi Rushi a Wintaka nell'Illinois. Anche loro sono suoi clienti, Lori fa la babysitter per i loro due figli piccoli, tuttavia i genitori comunicano a Lori che presto si sarebbero trasferiti quindi non avrebbero più avuto bisogno dei suoi servizi. Così Lori dice che avrebbe portato i bambini a fare una città speciale ma Mente li conduce a una scuola in un'area presente a Highland Park sempre nell'Illinois. Il motivo per cui si reca in quella scuola specifica è perché crede che la sua ex cognata Susan Taylor abbia due figli che studiano lì ma la convinzione di Lori è errata in quanto uno dei bambini non è nemmeno iscritto a scuola. Lori dunque lascia i figli dei suoi clienti in macchina ed entra nella scuola. Il suo obiettivo è terribile, fa esplodere una bomba incendiaria in uno dei corridoi. Per fortuna il suo piano criminale viene velocemente sventato perché subito dopo che si è allontanata alcuni studenti notano l'incendio e lo comunicano all'insegnante. Dunque il fuoco viene domato ma ahimè il viaggio di Lori non finisce qui. La tappa successiva è un asilo nido frequentato dalla figlia della sua ex cognata. Lori cerca di entrare nell'edificio ma il personale la ferma all'ingresso. La donna senza alcun rimorso sostiene di aver portato la merenda per i bambini. A questo punto prova ad avvelenare anche i figli dei Rushi dando loro del latte contaminato con l'arsenico che per fortuna ha un sapore orribile e infatti i bambini lo sputano. A questo punto Lori li riporta a casa e riesce a condurli insieme alla madre nel seminterrato. Lori li intrappola tutti e tre poi versa della benzina sulla scala dello scantinato e appicca il fuoco. Grazie a dio i bambini e la madre riescono a scappare strisciando dalla finestra del seminterrato mentre la casa è in fiamme. Ma neanche dopo quest'atto barbaro il viaggio di Lori è terminato. Si reca in una scuola elementare che si trova quasi quattro isolati dalla casa della famiglia Rushi. Ha con sé ben tre pistole. In un primo momento Lori vaga per la scuola. Entra in una classe di seconda elementare ma ne esce velocemente. La prima vittima che individua è un ragazzino che incrocia nel corridoio. Lo spinge nel bagno e gli spara con la sua beretta calibro 22 semiautomatica ma per fortuna non lo ammazza. Lori però in predo alla sua follia omicida cerca di fare fuoco su altri bambini ma la sua pistola si inceppa così la getta nella spazzatura. I ragazzini terrorizzati corrono fuori dal bagno e avvertono tutti di quello che sta accadendo. Anche Lori esce dalla toilette e torna nell'aula della seconda elementare in cui era entrata prima. L'insegnante sta supervisionando i suoi studenti mentre siedono in vari gruppi per eseguire un test di sicurezza. Lori ancora armata insiste perché tutti i bambini si ammassino in un angolo della classe. Nella paura generale l'insegnante rifiuta la sua richiesta cerca di portarle via la pistola e ci riesce. Per sfortuna come ricorderete Lori ha una terza pistola addosso. Estrae così la Smith & Wesson e inizia a sparare agli studenti. Ne colpisce cinque, ne ferisce gravemente due e ne uccide uno, il piccolo Nick Corwin di otto anni. Dopo la sparatoria Lori si dà alla fuga. Aveva programmato di scappare in macchina ma si rende conto che è impossibile in quanto è in corso un grande corte o funebre che le impedisce di partire. La donna quindi è costretta a improvvisare e decide di guidare a marcia indietro lungo una delle strade che si sviluppano davanti alla scuola per poi scoprire che si tratta di un piccolo cieco. Stabilisce che l'unica opzione valida che le resta è quella di abbandonare l'auto e proseguire a piedi. Così si spoglia dei pantaloncini macchiati di sangue e si un sacco della spazzatura blu intorno alla vita. Afferra le sue due pistole, è riuscita a recuperare anche quella sottratta dall'insegnante e si infila in un'area boschiva. Correndo nel bosco si imbatte nella casa di una famiglia, ossia della famiglia Andrew. La donna vi si introduce e in cucina scorge una donna e suo figlio di vent'anni di nome Phillip. Lori racconta loro di essere stata aggredita intimamente e di aver sparato al suo aggressore per legittima difesa. La famiglia Andrew crede alla sua tragica storia e la esorta a chiamare la polizia. Visto che ha agito per legittima difesa non ha motivo di temere ripercussioni legali. La signora Andrew presta a Lori un paio di pantaloni di sua figlia e, mentre la donna si sta cambiando, Phillip afferra l'altra pistola a Beretta e le suggerisce di chiamare la sua famiglia per informarla di quanto accaduto. Lori alla fine acconsente e telefona a sua madre. Le dice di aver fatto qualcosa di terribile e che la polizia era coinvolta. Phillip a questo punto le prende il telefono per raccontare i dettagli dell'accaduto alla madre di Lori. Aveva subito un tentativo di violenza intima e aveva ucciso il suo aggressore per legittima difesa. Phillip chiede anche alla donna di venire a recuperare sua figlia, ma lei si rifiuta. Quando anche il signore Andrew torna a casa ha luogo un litigio con Lori. Tutti vogliono che lei lasci la pistola, ma la donna si rifiuta. Lori allora richiama sua mamma e questa volta è il signor Andrew che le prende il telefono e chiede alla madre di Lori di convincere sua figlia a mollare la pistola. Mentre sono al telefono la signora Andrew riesce a sgattaiolare fuori dalla casa per avvisare la polizia. Quando Lori termina la chiamata con sua madre il signore Andrew le dice chiaramente che si rifiuta di rimanere in casa con lei mentre è ancora armata. Quindi anche lui si allontana. In casa sono rimaste soltanto due persone Lori e Phillip, il figlio ventenne della coppia. Poco prima di mezzogiorno finalmente, oserei dire, arriva la polizia. Non appena Lori se ne accorge spara Phillip al petto. La casa viene circondata e Lori si precipita al piano di sopra in una delle camere da letto rifiutandosi di lasciare la proprietà. Intanto l'ambulanza riesce a prestare soccorso a Phillip che sopravviverà. Gli agenti sono riusciti a far arrivare sul posto i genitori di Lori e il suo ex marito Russell. Arriviamo alle 19 quando la squadra d'assalto decide di entrare finalmente nella proprietà. Il padre di Lori, Norman, cerca di parlare a sua figlia tramite un altoparlante o un megafono ma quando la polizia sale in camera da letto scopre che la donna è deceduta. Si è tornata la vita sparandosi in bocca. La morte del piccolo Nick Corwin viene ampiamente descritta nel circolo di notizie trasmesse 24 ore su 24. Il delitto commesso da Lori è avvenuto in una zona benestante nella North Shore di Chicago e dalle fonti consultate ho appreso che in questi sobborghi non si verificava un omicidio da circa 30 anni. Dopo la sparatoria chiaramente i genitori di Lori hanno ricevuto molte critiche per aver continuamente protetto la figlia e difeso le sue azioni pur sapendo che la sua salute mentale versava in pessime condizioni. Norman e Edith si erano sempre schierati dalla parte di Lori nonostante facessero un danno sia a lei che alle persone colpite dalle sue azioni. Quando la polizia in passato aveva cercato di convincere Lori a consegnare la pistola i suoi genitori non avevano fatto alcuno sforzo per sottrargliela. Erano sicuri che ne avesse bisogno per difendersi da Russell, il suo ex marito. Come detto Norman il padre di Lori aveva poi liquidato tutti coloro che avevano avuto problemi con la figlia quando lavorava come babysitter. Era intervenuto a suo favore anche all'università quando il comportamento di Lori stava raggiungendo il limite e avevano intenzione di sfrattarla. Ancor più Lori aveva usato il telefono dei suoi genitori per minacciare i suoi ex e i suoi vecchi clienti. Per questo motivo i genitori delle vittime della sparatoria disperati quanto infuriati cittano in giudizio Norman e Edith. I due per non farci mancare niente intanto ostacolano le indagini della polizia perché si rifiutano di rilasciare interviste. Non vogliono parlare con i detective e respingono anche la richiesta degli agenti di accedere ai registri psichiatrici della figlia. La polizia per consultarli è infatti costretta a ottenere un ordine dal tribunale. Nella notte del 20 maggio la polizia si era recata nella proprietà dei genitori di Lori con l'intenzione di perquisire a fondo la stanza della figlia. Tuttavia era stato loro concesso di effettuare soltanto una breve perquisizione. Quando la polizia aveva lasciato la casa i genitori di Lori avevano ripulito a fondo la camera da letto distruggendo potenziali prove. Anche gli psichiatri di Lori devono affrontare parecchie critiche perché pur conoscendo i gravi problemi di salute mentale della donna non avevano intrapreso alcuna azione. Lo psichiatra di Lori del Wisconsin il dottor John Greist ha preso con stupore alcune notizie sulla sua ex paziente dopo che la foglia criminale della donna era già esplosa. Non era stato informato da Norman che Lori possedeva diverse pistole o che nel corso degli anni aveva avuto a che fare con la polizia a causa del suo discutibile comportamento. Se Norman avesse informato il dottor Greist di questi risvolti magari lui avrebbe potuto fare qualcosa per fermare Lori che rappresentava chiaramente un pericolo sia per sé che per gli altri. Probabilmente il piccolo Nick Corwin non sarebbe morto, altre vittime non sarebbero state ferite e non si porterebbero dietro quel trauma indilebile della sparatoria nella scuola. Emergono numerose teorie sul caso di Lori e sulla modalità con cui individuava le sue vittime. Per molti le selezionava tra coloro che l'avevano delusa o abbandonata. Aveva preso di mira il suo ex marito, il suo ex fidanzato e sua moglie. Aveva cercato di fare del male ai figli della sua ex cognata e alla famiglia Rasci una volta saputo che si stava trasferendo. Aveva importunato gli studenti dell'università dove aveva subaffittato quella stanza così come i suoi ex amici e le famiglie presso cui aveva lavorato come babysitter. Quanto al mio punto di vista credo che raccontare questo caso sia molto importante perché ci fa capire quanto possano essere catastrofiche determinate situazioni se non vengono affrontate in tempo. Se una persona è affetta da un disturbo mentale deve essere curata. Se invece di curarsi e di prendersi cura di se stessa metti in atto azioni dannose per sé e per gli altri contando sulla copertura dei genitori cosa potrà mai accadere di buono? Come al solito lo dico chiaramente posso capire che nei genitori scatti l'istinto di proteggere sempre i propri figli ma non è né utile né saggio arrivare a negare la realtà come hanno fatto il padre e la madre di Lori. Evitando di comunicare al suo psichiatra tutte le sue problematiche che la coinvolgevano hanno innescato un effetto a catena che definirei devastante. La figlia si è tolta la vita perché non riusciva a gestire la propria mente. Ha creato disagi a innumerevoli persone tra cui il suo ex marito che si è visto perseguitato per anni e anni. E infine l'evento più tragico ha ucciso un ragazzino innocente. La salute mentale è importante e non va sottovalutata. I sintomi non vanno mai minimizzati e altrettanto gli episodi di crisi se così possiamo definirli. Questa è la mia opinione su questo caso. Sono curiosa di sentire le vostre opinioni invece vorrei tanto che condividiate con me i vostri pensieri e quindi come al solito vi invito a commentare qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo caso e soprattutto fatemi sapere se lo conoscevate. Detto questo io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!